Eh sì, è classico dei cassiconi perché è proprio un quiz classico, quello per eccellenza, elementare, noi facciamo una domanda e chi prende la linea deve rispondere. La prima risposta è quella che conta. Si risponde esattamente, vince il premio, altrimenti no, se sbaglia no, ecco, insomma è molto semplice. Eh sì, appunto, la prima risposta deve essere insomma quella valida. Finito, è semplice, no? Proprio classicone. Sì, in pari sono 2.000 euro, eh? Allora vai con la domanda, Greg. Eh no, beh, si facciamo prima la domanda. La domanda è la seguente. Il grande prestigiatore veneziano Aldo Savoldello è più noto col suo nome d'arte. Qual è? Sentiamo chi è la linea. Pronto? Silvan. Ah, giusto. Ah, giusto. Giusto che? No, risposta giusta, bravo. Eh scusate, no, perché non l'avevo sentito, risposta di che? Eh, alla domanda, la domanda era il grande prestigiatore veneziano Aldo Savoldello. E tu hai risposto Silvan? Sì, sì, perché stavo prendendo la linea e quindi non avevo sentito la domanda. Ma perché hai risposto Silvan? Non mi sono, no, ho detto Silvan per presentarmi il mio nome. Cioè tu ti chiami Silvan? Silvan, sì. Ah, no, è un caso, un caso bizzarro diciamo. Curpo di fortuna incredibile proprio. No, sì. Qual era la domanda? Eh, la domanda era appunto il grande prestigiatore veneziano Aldo Savoldello è più noto col suo nome d'arte. qual è? Aldo Savoldello, eh, eh, no, no, non lo so. Eh, ma è Silvan infatti, no?